Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI per lavori in direzione Firenze, 3 km di coda tra Empoli e Montelupo-Fiorentino e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra-Fiorentina, mentre in direzione Livorno c'è un chilometro di coda tra Ginestra e Montelupo. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. Sempre in FIPILI possibili disagi per un incidente tra Montopoli-Valdarno e Santa Croce-Sull'Arno in direzione Firenze. Per quanto concerne le autostrade, in A1 rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Nord e il Vivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!